Innanzitutto buonasera, ben rivisti e buon anno a tutti. Noi riprendiamo questo nostro cammino che appena è iniziato, come dicevamo, incontri mensili che vogliono la sera, il pomeriggio, prima di andare via, in termini di una giornata di lavoro, di impegno, di impegni di studio, di attività, di fatto possa rasserenare un po' il nostro spirito parlando di letteratura, di diritto, delle loro congiunzioni, soprattutto guardare attraverso l'occhio dei poeti e dei letterati, in generale degli artisti, tutta una serie di aspetti, di intuizioni che ci aiutano a rileggere il dato quotidiano, professionale, positivo e in un certo senso ti diano anche un certo spessore, una certa armi, un certo respiro, perché le coordinate, le tre quali dobbiamo cercare sempre di, come dire, muoverci, non devono rimanere in uno spazio geometrico, ma avere uno spirito, potremmo dire, di terza dimensione con la possibilità per l'anima di rinfrescarsi, rinvigorirsi e dare capacità energetica alle nostre attività quotidiane, questo è il compito dell'altro, è quello di muovere lo spirito attraverso il ricordo, attraverso la rimembranza, attraverso la commozione, commozione che può essere una commozione gioiosa o anche una commozione dolorante, dipende dallo stato d'animo nostro, dipende dall'impronta che quell'opera d'arte e tutte le sue forme ci dà, insomma è educazione dello spirito, come? Vivendo l'esperienza, la cultura è solo fonte di esperienza, attraverso lo studio e attraverso la congiunzione diretta che noi abbiamo comunicazione, non a caso, che l'opera d'arte ci trasmette e ce la trasmette soggettivamente, tutti riconosciamo la bellezza di alcune opere d'arte, pensate a sinfonie di Mozart o a composizioni letterarie come quelle del nostro Leopardi, il bello è una cosa, l'effetto di quell'opera d'arte nel nostro animo invece è motivata da mille e mille ragioni che sono soggettive, per uno stato d'animo di quel momento, per uno stato d'animo dovuto a una serie di esperienze proprie nostre, ognuno è diverso dall'altro, grazie a Dio e appunto in questa diversità ci sono nella comunicazione dei risultati dell'opera d'arte le condivisioni e le varie letture di quell'opera d'arte, ma tutto sommato muovendoci in un primo grado è lo stesso artista che quando intuisce un'idea o vive un rapporto con un'intuizione che poi riproduce nella scrittura, nella scultura, nel colore, nelle note, ha per primo questa comunicazione, tutto sta poi a saperla comunicare agli altri, insomma lo dicevamo già un'altra volta, il comunicare di cui è espressione anche l'insegnamento è il più grande atto di carità, nel senso pieno della parola, quindi in questa prospettiva non esiste opera d'arte che non comunichi, che non presupponga l'altro, lo stesso artista quando crea, compone, compone pensando a chi comunicare, indistintamente, non si forma un'opera artistica, di valore artistico, non si forma per se stessi, l'arte non è mai in solo l'opera, ecco questo è il più grande insegnamento che l'arte può dare al diritto che per sua natura è rivolto alla collettività, al gruppo di conosciati, alla sfera, come dire destinataria di una serie di norme regolatrici, se l'arte comunica il diritto, la legge deve imparare dall'arte a saper comunicare bene. Bene, noi in questi cammini, in questi momenti di riflessione potremmo dire avvenzile, vogliamo creare questa prassi positiva di esperienza, l'altra volta abbiamo incontrato Filandello, poi ovviamente questi incontri potrete riascoltarli sul sito di Youtube dedicato appunto dall'Ateneo, con le registrazioni di questi incontri di modo che possiate magari riascoltarle, risentirle, in queste materie, in questo argomentare ripetita di Uva, c'è poco da fare, perché quello che può sfuggire un momento lo si può riascoltare anche perché sia in condizioni magari interiori, diverse, magari più efficaci, chissà, l'obiettivo con l'esercizio. L'altra volta, dicevo, ci siamo incontrati su una figura meravigliosa della nostra letteratura italiana, Luigi Filandello, all'interno di una serie di piccole spigolature che noi facciamo in termini di questi grandi della letteratura, abbiamo visto un po', soprattutto con il fumo a Tia Pascal, espigolando poi là, all'interno di qualche novella di Pirandello, quale visione questo autore offre al mondo del diritto e in particolare il concetto terribile, incisivo, potente per il quale un certo momento che ti piaccia o no, se non stai nelle forme che la legge prevede, addirittura dal volta puoi arrivare a non esistere, fu Mattia Pascal preso come emblema per eccellenza. Il fatto che poi l'opinione comune abbia creduto che Mattia Pascal non esista più, chi è morto e quindi non diverte tra i viventi, di fatto ha piegato quelle forme giuridiche che conseguono alla morte. Mattia Pascal, invece vero, vivo in carne ed ossa, non riesce ad ottenere nemmeno una carta d'identità. Vedete come poi la forma mangia la sostanza quando egli stesso deve piegarsi alla potenza della forma che i più, l'opinione dominante, hanno il posto, anche a scapito della verità. È più vero di un corpo vivente e non c'è. Vedete il paradosso che Pirandello viene a denunziare, a cristallizzare, a porre d'innazio, un grosso problema. Il fatto che Leopardi analizza in un'ottica completamente diversa rispetto a quella di Pirandello, il problema delle forme giuridiche, anche in chi? Ecco il nostro autore, il nostro Leopardi, oggi come lo leggerete. Anche Giacomo Leopardi si pone il problema con la forza delle forme della legge, ma il pensiero non può spingerci verso la crisi dell'uomo contemporaneo che invece Pirandello, per ovvia ragione cronologica, quasi 100 anni proprio viene a indicare. Io ho scelto un'opera che già di per sé sembra richiamare quei primi momenti che Papini descrive nel libro di un uomo finito, è una biografia che Papini scrive nel 1913. Ecco, in questa geografia Papini i primi sei capitoli li dedica a una sorta di sua avventura, sventura interna alla biblioteca di Firenze, verosimilmente la biblioteca nazionale, dove a un certo momento questo ragazzo senza alcuna metodologia vuole prendere tutti i libri e vuole creare l'enciclopedia del sapere universale. Non è arrivato nemmeno alle prime declinazioni interne alla lettera A, vedendo voi ovviamente come se volesse prendere l'acqua del mare con un cestino e metterle una buca, agostinianamente richiamando l'idea. E quando io dico prendo la ginestra come punto di riferimento mi sento il fanciullo Giovanni Papini dentro la biblioteca che vuole fare l'enciclopedia della sapienza. E necessariamente non posso che essere parziale, limitato nelle analisi. Già la ginestra è un canto meraviglioso che possiamo prendere come emblema senza riuscire ad esaurirlo. Ma questo diventa ancora più grave se consideriamo che l'esperienza che Leopardi ha con il diritto risale a molti anni prima. Leopardi per la prima volta sfida un po' la visione della legge del diritto nel 1820. Quindi ben 16 anni prima la stesura della ginestra che è il canto, potremmo dire, dei canti Leopardiani, il punto d'arrivo. Che era successo nel 1820? Leopardi in circa all'ora 10.000 volumi che il papà Ronaldo aveva collezionato, collezionato e quindi catalogato e quindi collazionato nel senso italiano del termine. Erano libri che dice lo stesso Ronaldo Il mio figlio primogenito Giacomo ha letto tutti e ho almeno consultato. Ovviamente nelle opere di consultazione. Quindi Giacomo è in una costante sete di lettura. L'erudizione e la trasformazione in esperienza culturale avvengono immediatamente nel giovane Giacomo. Grazie a una predisposizione naturale, non c'è dubbio, e grazie ad una metodologia che gli viene insegnata da Gesuita che risiede a casa di Monaldo, da Monaldo medesimo e da una serie poi di interlocutori che a livello epistolare Giacomo viene a vivere come esperienza, soprattutto come consigli. Uno di questi è Pietro Giordani, ecco, l'altro grande, grecista e non solo. Insomma, senza dilungarci in altre cose, ma questo serve per capire lo spirito con cui Leopardi immediatamente aggancia le unità bibliografiche che il papà Monaldo anche acquista costantemente a scambito di delavidare il patrimonio familiare. In nota, a un certo momento Adelaide, la moglie di Monaldo, deve prendere in mano l'amministrazione della casa Leopardi, lei che viene dalla famiglia Adelaide Antici, di pochi metri antecedente da casa di Monaldo, di Leopardi, gli Antici Mattei, presenti qua a Roma, il fratello di Adelaide, è qui a Roma, vive qui a Roma e ospiterà Giacomo nel 1822-23, quando Giacomo per la prima volta uscirà dai canali. Il palazzo è il palazzo che è al centro di Roma, vicino Largo Argentina, e che è sulla via, una perpendicolare di via delle potele scurre, il palazzo Antici è la sede anche della biblioteca famosa che è in quel palazzo. Beh, insomma, il nostro Monaldo compra libri a tutto spiato, e Giacomo, dai libri comprati da Monaldo, non sa, come dire, quale libro iniziare a leggere per lui. Tra questi, Monaldo acquista nel 1819-20 un'edizione italiana del saggio sull'indifferenza in materia di religione scritto dall'abate Felicitè de la Mennè, questo abate d'Oltralfe che viene colpito da un paio di encicliche dei pontefici e che rasenta l'eresia della visione, ovviamente, temporale della Chiesa, in quanto si muove con un'idea liberale del cristianesimo. Viene mirato anche dallo stesso Monaldo, il quale conservatore più di una volta intesserà a livello di scritti delle dialettiche, anzi, delle vere e proprie lotte ideologiche con la fate di la Mennè, colpito in particolare dalla Mirari Voss del Papa Gregorio. Insomma, conservatorismo e progressismo, il Monaldo e la Mennè verranno ad esplicarsi negli anni che seguiranno. Nel 1819 viene pubblicato, vi dicevo, il saggio sull'indifferenza in materia di religione della Mennè da un altro abate italiano, Vigoni. Quella traduzione viene immediatamente a colpire l'attenzione del giovane Giacomo, che all'epoca aveva nemmeno 21 anni, e queste edizioni che vanno dal 19 al 20, Leopardi le comincia ad annusare nei primi mesi del 20. Quindi questo ci fa dedurre come Monaldo, come Leopardi, Giacomo abbia letto la traduzione del Vigoni, dell'opera della Mennè, immediatamente appena Monaldo l'acquista. Io ho studiato per diverso tempo a casa Leopardi, nella biblioteca di Leopardi, su quel libro del Vigoni, e dopo sette anni ho fatto uscire una monografia su quella fonte inedita, in questo senso, che nello Zibaldone compare. Perché Giacomo, nello Zibaldone che aveva iniziato precedentemente, ma pensate che in tre anni aveva scritto 100 pagine, nel 1820 comincia una dialettica serrata proprio con il Lamennè, nella traduzione del Vigoni, ovviamente l'opera era in francese, ed era la traduzione, quella che Giacomo aveva a sua disposizione. Tra parentesi, Giacomo conosceva bene il francese, lo spagnolo e l'inglese e venne a conoscere, oltre che il greco e il latino, in un modo meraviglioso, stupendo, anche filologi, lontologi, anche l'Italiano del Vigoni, conosceva molto bene anche l'aramatico, l'ebranico, studiato in via deduttiva dal greco e dal latino, grazie alla Bibbia moniglotta. Cioè se i bassi in greco e in latino coincidevano in sinossi con le parole e con l'uso linguistico ebraico, Giacomo in via deduttiva riuscì a imparare l'ebraico studiandolo appunto grazie al latino e in greco, che ben già conosceva sul testo della Bibbia moniglotta, che oggi è a casa di Ocanti, si trova nella seconda stanza, subito a sinistra, a mano mancina nel corridoio. Ebbene, in questo discorso dunque volevo dirvi che Giacomo comincia una dialettica serrata con il Lamennè e nella dialettica serrata Giacomo più di una volta viene spinto a riflettere da una serie di argomenti che il Lamennè poneva ovviamente a vantaggio della religione. Giacomo sfrutta culturalmente quest'opera non solo per gli aspetti che è connessi e legati alla religione, non è questo che mi interessa di più, ma viene ad essere colpito più di una volta da un concetto, grazie mille, da un concetto gentilistico, da un concetto di relatività, cioè viene a individuare dalla Lamennè a far sua idea e a proiettarla e spesso a contraddirla rispetto a quello che Lamennè diceva a favore della religione, prende quei temi e tra questi esalta la dimostrazione della relatività del concetto, ad esempio, della morale. Quanto a dire che in certi luoghi, per certi termini culturali, per realtà diremmo noi oggi antropologiche, etnologiche, storiografiche, il concetto di morale è diversificato rispetto le altre località. Dal concetto della morale arriva al valore della giustizia. Anche la giustizia ha queste realtà così relative nello spirito umano, al netto di presupposti e di assiomi che la fede ti porta a vivere e a vedere. La fede è una speranza ed è sostanza di cose sperate, dice Sant'Aolo. Quindi è completamente un altro assioma. L'analisi di Giacomo non è sulla spinta religiosa, è sulla spinta antropologica. Umanamente la relatività caratterizza i giudizi e di questi non può essere sempre, di questa relatività non può essere sempre nemmeno l'idea della legge. Hai voglia di dire che la legge è medicina? È una medicina relativa. E lì inizia a, inizia più che altro, intensifica quella dialettica oppositoria, come dire, basata su antitesi che camminano. Ho usato una parola da prendere alla greca, è antitesi, no? Da prendere alla maniera filosofica. Non è ancora. E Leopardi non riguarda le antitesi tedesche. Non ha nulla a che vedere. Rimane un discorso evidentemente letterale. Questa dialettica, questo scontro tra l'età giovane e l'età adulta, tra l'età della fanciullezza, quindi della storia come dell'individuo e l'età matura della storia come dell'individuo. Il salvato del villaggio diventa l'emblema di tutto questo. L'età della speranza e l'età della giovinezza e l'età adulta, con la cognizione della verità arida delle cose, spegne ogni illusione e ogni motivo di essere speranzosi, freddando con l'esperienza e cristallizzando quella visione che poi è passata con una visione di pessimismo storico, cosmico e tutto quello che la critica letteraria, specie di matrice desantisiana e poi crociana, ha incardinato sulle spalle di un po' troggiano. In realtà il pensiero di Leopardi è un duale greco, spinge alla cognizione di una verità, ma non per questo cessa di essere speranzoso. D'altra parte, un pessimista cosmico e storico come ci ha voluto presentare per tanti anni, io mi domando perché ha scritto poesie fino all'ultimo così bene. E' la prova provata. Il pessimismo, vi dicevo già altre volte, non produce in forma d'arte immagini e speranze. Il pessimismo è una componente scettica, una componente tagliente, fredda, cruda. L'arte non può essere pessimista, può accantare il dolore, può avere ad oggetto anche il male per denunziarlo, anche il brutto può essere oggetto dell'arte, non solo il bello. Questo non significa che l'arte non voglia mangiare un messaggio, lo dicevamo all'inizio, comunicazione. Vedete, allora questo cammino di Giacomo rispetto all'età della natura e l'età della ragione, come l'età della fanciullezza e l'età adulta dell'uomo, è un cammino che in questo incontro con la mente viene ad essere alimentato per via denutiva e, come dire, per spunti che quest'opera offre alla cognizione e al pensiero del marchiano, per la sua meditazione. L'idea della variabilità. Nel 21 Giacomo finisce questa dialettica intensissima. Pensate, tra il 20 e il 21 non passa nemmeno un anno solare, le pagine sono circa 600 nello Zimbaldone. In tre anni ne erano sia e non cento, nei tre anni precedenti. La dice Luca, questa intensificazione. Lo Zimbaldone è questo diario meraviglioso che ci dice dell'anima in cammino di devarti. Arrivando dunque, nella primavera del 21 Giacomo ha preso cognizione della variabilità della giustizia, della relatività del concetto di giustizia e quindi delle leggi. Non è un caso però che qua e là, proprio prima di lasciare la mennè, Giacomo abbia cominciato a riprendere in mano con una componente visiva diversa, da una prospettiva diversa, delle questioni filologiche, linguistiche. Comincia una sorta di lettura storica della lingua, delle lingue neolatine, delle lingue del ceppo romanzo. Nella primavera del 21 Sebastiano Timpanaro mette in evidenza nel 70, un meraviglioso scritto della filologia di Leopardi, per come ci sia un'idea che matura in Giacomo, quella di scrivere un trattato che metta in parallelo le cinque lingue, le cinque lingue della ceppo, ovvero neolatine. Programma che non acquerà, però nello Zimbaldone compaiono una serie di riflessioni storiche della grammatica cercando nella lingua, che è l'espressione naturale dell'uomo, cercando nella radice della lingua, delle parole, quelle realtà unificanti e valevoli al di là delle temie. Scopre prima della glottologia di fine ottocento, mentre intanto i fratelli Grimm, Fonzavigni in Germania lavorano sulla filologia linguistica, scopre questo giovane chiuso a reganati a 22 anni, che senza internet e senza fonti in questa materia, che non fossero i classici, scopre che ci sono dei ceppi comuni che testimoniano l'esistenza dell'indo europeo. scopriremo nella seconda metà dell'ottocento che nel terzo millennio a.C. l'Europa in fatto di lingue aveva dei ceppi linguistici provenienti da un'unica matrice, che abbiamo chiamato indoeuropeo, dalla quale in realtà derivano il sascrito, il greco, il latino. Voi considerate allora che quando tu trovi una formula, una radice che spinge ad un'idea, che accomuna popoli diversi tra loro, quella variabilità che le leggi non possono garantire risolta, che la giustizia non riesce a guidare perché ne diventa vittima, variabilità, nelle lingue può essere attenuata la relatività, perché ci sono dei ceppi comuni dai quali derivano poi l'uso di termini che nelle lingue, poi soprattutto quelle classiche, da esse nelle derivate, come quelle, ripeto, di filologia neolatine, di filologia romanza, vengono quindi a riprodurre e a testimoniare. Questo cammino sulla parola allora Giacomo l'affronta non solo come colui che levica, lavora, incide e guarda le parole più familiari e meno usate, quindi più giovani, in quanto poeta, ma le guarda anche in quanto filologo per cercare di attenuare se c'è quella relatività di tutte le cose. È bellissimo questo doppio ambito di ricerca che poi confluirà in quelle forme bellissime che nell'arte poetica e di prosa Giacomo viene a fissare. Ed ecco perché quando sentiamo un verso di Leopardi rimane l'emozione dentro i nostri animi e soprattutto anche ricordandole, no? Come mai non c'è alcun ragazzo o ragazza che non passi per una passione o almeno che non provi gusto con un verso di Leopardi? Come mai? Piace a tutti la sua poesia, il suo verso. Perché? Perché è proprio il lavoro su parole familiari e giovani e che quindi noi sentiamo più vicine. Vedete? È un lavoro quasi archeologico, vorrei dire, su stratificazioni e questo presuppone comunque dentro una componente culturale, non è udita, non è udita, non è udita, culturale, non è udita. E guardate come di muovi su Leopardi e in Leopardi hai delle scoperte, delle matrici che sono meravigliose, non basta una vita. Quanto a dire, questi geni sembrano veramente frammenti di stella che passano, ci donano quella luce che non tramonta nella cultura e poi svaniscono come il grande dono che Dio fa all'uomo, veramente per indicare una lampada nel cammino. Beh, qui è Lucrezio, no? I poeti sono coloro che portano la lampada indicando il cammino a chi segue. Ecco il fate della visione nativa. Certa lampada tradunti. Questa è la figura del poe, dell'artista in tutte le sue cure. Ebbene, questo è il presupposto, questo è l'inizio. La ginestra è cronologicamente il punto d'artimo. Ecco perché nel titolo dell'incontro di oggi ho messo l'idea della civiltà e della variabilità delle leggi nel pensiero leopardiano e nella ginestra. Perché segnano questi due momenti, il primo incontro nella meditazione leopardiana in questi temi e l'ultimo, la ginestra, in questa esplosione cosmica che Giacomo viene a fissare. Entriamo un po' nella ginestra e anche qui, come se entrassimo in un campo, cogliamo tra i fiori più belli, alcuni di essi. Questo canto è lungo, viene dettato da Giacomo che ormai non vede proprio qui, se non ombre. Viene dettato nel 36, Giacomo morirà nel 37, il 14 giugno, a Napoli. Gli ultimi due anni e mezzo, Leopardi vive fisso a Napoli. Ebbene, con Antonio Ranievi, come dire, in questa simbiosi con il popolo napoletano, che piace tanto a Giacomo perché è tanto naturale e tanto vivo, l'idea della natura, come vedete, torna vivace nella speculazione Leopardi. Vi ricordo che l'idea della natura non scompare dopo la fase dell'arido vero, ma anzi torna più viva che mai. Lo dice lo stesso Giacomo Zibaldone. Un poeta per essere tale deve prima essere un sapientissimo filosofo. Filosofo si intende conoscitore della verità delle cose. Allora potrei essere un grande poeta. Questa è la fase terminale, potremmo dire, dell'esperienza di vita di Giacomo. Immaginate che storia è nell'animo di questo giovane. La composizione è su diverse scene. La prima scena, composta dai primissimi versi, che poi le riconoscete queste scene, questi blocchi, dalle stanze che sono sviluppate graficamente e che curava lo stesso Giacomo facendo imbazzire l'editore, prima Piatti a Firenze e poi l'editore Stella nel 1935 a Napoli. Fatiamo attire per i punti, le virgole, gli spazi anche i margini perché doveva essere tutto espressione di quei contenuti. Anche la composizione sul libro. Beh, anticipa gli ermetici e quanto abbiamo detto di Ungaretti in un incontro scorso a dicembre, ricorderete, dove gli ermetici lavorano di spazi e di punteggiature e anche di parole lasciate da sole, componenti un verso. Ecco, Giacomo anticipa in un certo senso anche questa visione della pagina come espressione, come dire, come strumento per comprendere il respiro e il ritmo di quella poesia che quella pagina raccoglie. La prima stanza identifica, richiama lo sguardo di Giacomo dinanzi al Gesù, è lì di fronte. E da quella visione Giacomo rivolge un primo invito. Poi c'è una seconda stanza dove Giacomo si rivolge al secolo, al secolo del progresso, qui anticipatore della crisi che dal Novecento non li diamo in modo marcato. Qui c'è la espressione a queste livee, a quelle distrutte di Pompei, da quella caduta di massi e di lava che la natura indifferentemente in un momento ha portato, facendo rassomigliare Pompei ad una sorta di area dove vivono le formiche, formiche schiacciate dalla caduta di un pomo. Così la lava e il Vesuvio azzerano la grande città romana di Pompei in un attimo, nell'indifferenza e nel silenzio poi dei secoli futuri, di quella città, della storia. E su quelle rive, dice Giacomo, bisogna che il secolo del progresso riguardi. E dirà proprio testualmente, riprendendo delle parole di Terenzio Mamiani, che poi era un cugino di Giacomo, tra l'altro, di Mamiani, riprendendo quelle parole, gli dirà al secolo, dirà muovigliato, ma qui mira e qui ti specchia, sei col superbo e sciocco. La superbia è sempre accompagnata dalla sciocchezza e la sciocchezza si esprime sempre con la superbia, c'è poco da fare. L'umiltà è una virtù conseguente alla cultura e la cultura è la caratteristica dell'umiltà. Guardatelo in tutte le realtà fatti di virtù aristoteliche e tratoniche, umane, poi evidentemente se la metti sul piano della fede, l'umiltà è la cultura di Dio, è l'esperienza costante, ma rimanendo sul piano orizzontale, la virtù dell'umiltà è sempre un'espressione, è una virtù derivata, potremmo dire, di altre virtù. Ebbene, la cultura rappresenta questo dominio. Vero. Il secolo superbo e sciocco, dunque. Qui mira e qui ti specchia, su quest'alida ormai realtà di Pompei, dove non sorge più nulla, dove è la serpe che viene a rappresentare quell'alibità della terra infuocata dal sole, quel passare del carro che fa scrocchiare quella terra secca. Qui mira e qui ti specchia se col superbo e sciocco, che il caldo e il sino all'ordine di sotto pensiero, segnato in atti abbandonati. E volti addietro i passi, devi tornarti vanti e procedere il chiami. Il progresso è un tornare indietro con queste caratteristiche. E lo chiami progresso questo tornare indietro. Guarda qua quanto puoi valere, tu con la tua potenza. Basta o niente. E spariamo. Basta o niente. Siamo annientati. Guardate che grande riflessione morale, etica, per la storia e per ciascun individuo. Questa è la seconda stanza della ginestra. La terza, l'invito alla solidarietà fra uomini. Qui Giacomo esplode meravigliosamente un invito che Seneca aveva già fatto nel mondo latino. In un'opera che tra l'altro è introvabile. Di Seneca pubblicano tutto, ma quest'opera io non l'ho trovata più. Il De Beneficinis, che è un'opera relativamente minore di Seneca. Se ne trovano tante, ma del De Beneficinis fu fatta una traduzione qualche anno fa, siamo ormai al decennio, da parte della La Terza. Poi sparì. Introvabili. Quella e altre edizioni, ovviamente nelle successive non ci vuole ormai. L'ultima di quella di più di dieci anni. Nel De Beneficinis di Seneca c'è questo invito alla umana solidarietà. Insomma, se stiamo per cascare in un burrone, diamoci la mano l'unco all'altro e forse riusciamo a trattenerci. Da solo non si va da nessuna parte. L'uomo solo deve vedere in questo invito alla solidarietà, alla unità della differenza, il grande punto di arrivo e di sostegno. Un libro, se non fosse unito, non sarebbe tale, non porterebbe il contenuto. Le pagine, se non fossero unite in una collazione, in un dorso, non determinerebbero un libro e non potrebbero comunicare l'idea. Vedete, questo è l'invito di Giacomo. Guardate, aveva scoperto della variabilità di tutte le cose. Solo la lingua aveva la matrice comune in alcune realtà, fino ad arrivare a scoprire l'indo europeo, prima che ci arrivassero i glottologi che ancora non erano nati, quando Giacomo scriveva di queste cose, l'autore che scopre della variabilità e della relatività di tutte le cose, grida davanti al vulcano e alla Pompei, distrutta l'uomo solo se si unisce per andare avanti. Non sei nemico, perché già siamo nulla, innanzi la stessa natura unitossente, che in modo indifferente come da creato tu puoi distruggere. E non puoi nulla. Quanto è vero questo grido di Leopardi, di Nazio, le tragedie che stiamo vivendo in questi mesi e in questi ultimi anni, in modo particolare perché diretto. Quanto è vero che la natura in un attimo ti toglie quello che hai. E con chi te la prendi? Non te la puoi prendere con niente. Sono gli eventi, sono le realtà, in alcuni casi aiutati dalle omissioni e dalla colpa dell'uomo, ma al netto delle colpe. È indiscutibile che un terremoto non lo puoi prevedere. E ti può distruggere. La stessa realtà della nostra vita è fragile. Ma allora cerchiamo nella vita l'alto significato che si esplica in mille modi con un atto di bene, con un atto di bene sarà, con un sorriso, con la solidarietà che ci congiunge. Se ci vediamo nemici, facciamo ridere due volte. Eccolo lo sguardo ironico della ginestra di Leopardi. Questa è la terza scena che nel canto della ginestra viene a comporre la terza stanza. viene un'altra, la quarta, quella che vi vorrò leggere prima di salutarci tra un attimo, tra qualche altra riflessione. Quella del poeta che dopo aver visto il dolore, il male, l'aridità, la chiusura, la morte. In quella Pompei alza lo sguardo. E l'invito ancora più bello. Alza lo sguardo e contempla il cielo della notte. E in quel cielo della notte la nullità della terra come punto rispetto a quei punti che in realtà sono immensi. E non aveva un camocchiale per parte. Non aveva l'album fotografico della astronomia celeste che noi oggi possiamo avere e vedere facendoci girare la testa se parliamo e se guardiamo quelle fotografie di un cosmo e di un universo immenso. Non si riescono a raccontare gli zeri degli anni luce quanto a distanze. Se poi cominciamo a vedere le inclinazioni della sfera celeste del cosmo e delle teorie aisteniane e della relatività fino ad arrivare a configurare immagini diverse di spazio e di tempo per comprendere come l'universo se finito non poggi sul nulla e che necessariamente non potrà essere infinito per una serie di ragioni ma sempre in espansione in questo cammino perpetuo e universale cosmico. Ecco, tutto questo che noi oggi potremmo contemplare anche dai inesperti in materia astronomica ma da esperti e di esperienza Giacomo lo ha anticipato intuendo e guardando quel cosmo. E questa quarta stanza della ginestra è tutta rivolta a questa celebrazione della grandezza universale e della piccolezza al contempo nell'universo di ciascuna delle componenti dell'universo. E l'uomo che è nulla rispetto alla terra, figurarsi cos'è quando la terra è un nulla rispetto all'universo. Guardate come c'è questa immagine della realtà cosmica che si viene a schiantare nella realtà della piccolezza. Arriva a parlare del pomo che cade sulle formiche e viene a contemplare questi sguardi universali. Dentro la ginestra hai questi movimenti come fossi su una nave sballottata sul mare. E' quanto è vero che l'altra gara che non è dolce quando succede proprio questo nella lettura di Deopardi. E così si arriva alle parti finali, quella dell'immagine del villanello, del fendigrino che cammina, del grande respiro della nona e ultima stanza che ha come riferimento la ginestra. Rispetto dopo che Deopardi ci fa compiere questo viaggio come nello smarrimento di Odisseo, in mezzo all'oceano della conoscenza che non è tutta per l'uomo, ma a un certo momento Giacomo chiude la scena rivolgendosi direttamente alla ginestra. E la ginestra è l'immagine della poesia, l'immagine dell'arte, che è lenta, fragile, ma che sa chinare il cavo, innocente, non redimente. E' l'opposto del secolo superiore sciocco, tutto animato da una fredda ragione che poi, a ben guardare, porta ai risultati paradossali, più che altro non è la ragione, ma il malutilizzo esasperato della ragione che porta ad essere superi e sciocchi. La storia, le comunità come gli individui, c'è poco da fare, è una grande lezione morale, questa che viene da Deopardi. Io volevo adesso su tre parti, leggervi e lasciarvi la riflessione direttamente dai versi di Deopardi e così poi salutarci tra una decina di minuti. In questo cammino, ripeto, dello spirito. La scena del Gesù, da Napoli si vede quanto è vero il verso leopardiano. Io l'avevo letta mille volte, mille volte, non ricordo la prima volta che incontrei Leopardi, perché è quasi, l'incontro con Leopardi è quasi congedito per quanto riguarda la mia storia biografica. E quindi sono cresciuto con questo verso, qui sull'alita schiena, il formidabile monte sterminato il Vesevo. E quando sono andato a Napoli qualche mese fa, e devo dire per la prima volta andando cicamo, ero solo andato per convegni, conferenze, vai la mattina e torni la sera e poi dai letta a tutto, tranne che alla realtà della natura, ovviamente quando vai per motivi di lavoro, rimasi stupito l'anno scorso della grandezza di questo verso. E qui che è proprio la parola che plasma. Prima di tutto, schiena, vado a rovescia, qui sull'alita schiena, patto da schiena. Se guardi da Napoli e dal golfo di Napoli, il Vesuvio, il Vesuvio ha la schiena, schiena. Sembra una schiena di persona sdraiata. Ha, come dire, il movimento di spina dorsale a partire dal colpo. Schiena. Non è schiena nel senso del monte, è proprio una schiena che quel monte viene a richiamare, una schiena umana quasi. Schiena. Arda. Non nasce niente. è lava secca, è pietra, è terra in aridità. Arida schiena. Dove ha scritto Leopardi questi versi? Dove li ha dettati? Dove li ha concediti? Sopra Napoli ci sono una serie di cittadinelle. fra queste c'è Torre del Greco, che è raggiungibile con un nome e qualcosa di tre lì, che gira intorno, Circum desuliana. Ebbene, lì, a Torre del Greco, vi era una villa, la villa di un avvocato, che tra l'altro era il parentato con Antonio Ranieri, che ospitava Giacomo, soprattutto l'estate, in questa dimora estiva. Questo avvocato concedeva dunque a Giacomo e Antonio Ranieri di spostarsi da Napoli e Giacomo per un paio di periodi, la prima volta per diversi mesi, rimase proprio alla villa di Torre del Greco. Se vai sulla terrazza della villa di Torre del Greco, tu già, se guardi da una parte, vedi il mare, il mare, si capisce, tutta l'immagine meravigliosa, marittima, dalla parte opposta, tu hai il Vesuvio. E se ti affacci verso il Vesuvio, ti accorgi di essere già sulla schiena del Vesuvio, non a vada, non è pieno. Ecco perché Leopardi inizia la ginestra con qui, sull'arida schiena, perché la scrive a Torre del Greco, stando in quella villa già sull'arida schiena. Capite quanto è reale, qui, che noi prendiamo come un suono quando andiamo a imparare quel verso, qui sull'arida schiena. Formidabile. In latino formido è l'aggettivazione che indica ciò che spaventa, pauroso. Quando noi oggi in italiano diciamo che è una cosa formidabile, diciamo come sinonimo di meraviglia, ma la meraviglia che deriva da uno stupore che quasi impaurisce, quindi formidabile è più forte di meravigliarsi o di meraviglia quanto a sostantivi. Voi capite? Ho attribuzioni, meraviglioso, ecco, mi dà il meraviglioso se vogliamo la sinossi completa. Beh, formido identifica una meraviglia che deriva da stupore. Insegnano i greci che il sublime staventa e la differenza tra il bello e il sublime è che il sublime è incontrollabile, ingestibile, talmente vasto ed immenso. Ecco, le rocce, le cascate, lo stesso cielo, le mura, varia pedra in Giordania è il formidabile in certi tratti di spaventi, per quanto è grossa la massa lavorata. L'opera d'arte talvolta può diventare spaventosa. Non tutto, lo è. Bello è ciò che puoi gestire, è un grado diverso, la bellezza rispetto il bello rispetto il sublime. Ma con questa caratteristica allora noi siamo dinanzi una realtà, il Vesuvio, che è spaventosa nella sua realtà. Formidabile il monte. Ed eccola la vera aggettivazione, sterminator Veseo, capace cioè di distruggere una città imperiale al massimo del suo momento storico. La quale null'altro allegra arborne il fiore, quella schiena. Non gli dà vita, né arbor, né albero, né fiore. Non c'è colore. L'albero identifica la vita e il fiore identifica i colori. Guarda, ti ha già detto che è arida, dunque e crigia. Tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. L'unica che vedi, che anima, contenta, nel senso che è capace di vivere lì, è una odorata ginestra. E vedi questi cespugli che ancora oggi, se vai a Torre del Greco trovi, proprio intorno, la villa Ferrigni, che è la villa di Torre del Greco. Guardate, solo sui primi cinque versi, solo le parole che cosa possono trasmettere allo spirito umano. Quell'odorata ginestra apre e chiude il canto. Infatti, seconda delle terze citazioni che volevo fare con loro e tu lenta ginestra. Questa è l'ultima stanza che chiuderà il canto della ginestra, non a caso dedicata a quel fiore, fiore del deserto. Odorata all'inizio, qui lenta ginestra, ma anche qui, quanto è vero, come l'alida schiena. Se guardi la ginestra, non è potente quel fiore nella sua composizione. Ha la testa chinata, tendenzialmente. È lenta, la puoi rompere con niente. Che di selve odorate torna il profumo dell'inizio e così alla fine. Che di selve odorate queste campagne di sfogliate ad ogni. Ecco, chiude come ha iniziato. Odorata ginestra, la quale un ladro lega l'arborre e fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi. Odorata ginestra, contenta dei deserti. All'inizio, alla fine. È tu lenta ginestra che di selve odorate queste campagne di sfogliate ad ogni. È come riprendere il discorso da cui è partito tutto. dall'inizio. È riappolgere tutto nella conclusione. Anche tu, presto, alla crudel possanza, soccomberai del sotterraneo fogo. Da un momento all'altro, se il Vesuvio rierutta, anche tu soccomberai. Che, ritornando all'uomo già noto, quindi per l'ennesima volta rierutterà, stenderà la parolimbo sulle molte foreste e piegherai sotto il fascio mortale, non remitente, il tuo capo innocente. E' lì la dignità. Nel non andare a inventare superuomini che non esistono. Nel andare a indicare qual è la vera missione che l'uomo ha, ognuno nella propria esistenza. Ognuno per la propria esistenza. Sapere, cantare il bello, cantare il sublime, riconoscere il valore dell'altro, sono dei doni incommensurabili che danno significato alla vita umana. Altrimenti, passiamo. Ricordate, si sta come le foglie sugli alberi da prima. Questo è il concetto, rimesso in termini un po' diversi. Ci stacchiamo i lunati. Dobbiamo riguardarle le nostre coordinate, perché la quotidianità ci spinge al superiore. Inteso come superuomo, eh? Crederci eterni e forti nelle nostre azioni quando in realtà siamo chiamati ad altra forma di eternità, non quella della forza. E qual è l'ultimo passaggio? Che ci dice che cos'è, dunque, la civiltà? L'idea della civiltà, vedete, che dalla cinestra compagno. Non è solo la solidarietà, non è solo la consapevolezza della nostra fragilità come segno di coscienza, per non esaltarci, ma nemmeno deviare rispetto alle nostre virtù e le nostre forze, anzi, saperle individuare e applicare. Ieri ho sentito per radio la notizia che, dopo più di cento anni di attività, chiuderà una delle più famose attività attività di circo negli Stati Uniti e quindi realtà di crisi che ormai è irrecuperabile per questa forma di spettacolo. Mille, mille considerazioni mi sono venute veramente ieri. La prima, più immediata, chiude il circo dove ci si stupiva guardando le specie di animali, mi fermo all'immagine del circo di Nadia, per la morte di Dio, dove il bambino e il suo genitore, i suoi genitori si stupivano nel vedere una razza, un genere di animale oltre a delle acrobazie che l'uomo poteva compiere. Nel guardare una tigre per la prima volta il bambino o il leone o la zebra o il cavallo, il bambino si stupiva. Mi fermo allo stupore, faccio stare un momento sul tema comportamento sugli animali della morte di Dio. L'idea del circo era questa idea dello spettacolo. Chiudiamo il circo dove ci si stupiva perché si guardava in un certo qual modo la natura, prendiamone il positivo. D'altra parte però sono 17 anni che nella nostra Italia, quindi mi fermo al format italiano, non quello mondiale, che ha diversi anni in più, noi vediamo dentro una casa degli uomini e delle donne osservati H24 per alcuni mesi facendo così spettacolo della loro irriverenza quotidiana l'uno nei confronti dell'altro perché se togli ordinari strumenti, figurarsi poi per non parlare degli strumenti virgolette straordinari per quel tipo di soggetti quale può essere un libro, l'uomo necessariamente diventa un animale. Beggio, perché l'animale segue delle realtà di regole naturali, l'uomo no, l'uomo che discende violandole, quindi c'è colpa, c'è responsabilità. E dentro una casa tutti a osservare, la casa che può diventare un'isola, la casa che può diventare il viaggio di Pechino, è tutta una casa, basta che circoscrivi nella testa e in quell'ambito tutti i spioni a osservare e a discutere se ha fatto bene o male Caglio, a trattare bene o male Dizia e si discute del nulla. Ve lo ricordate? Quante volte ve l'ho detto aspettando Godot di Samuel Beckett, stai un'ora e tre quarti a guardare uno spettacolo dove questi due sanzuffano, mettendo in mezzo solo altri due ulteriori figure, più quella di un bambino che ogni tanto va a dire guarda che Godot manco oggi arriverà, aspettalo domani. Alcuni hanno visto il Godot, Dio, l'idea di Dio. Se la rinvii, non si capisce più nulla nella realtà, ma riempila del significato che vuoi, è un'opera d'arte, non ha l'ermenetica del Magistero, è un'opera che puoi sentire secondo le tue verità, rimane andata. È inconfondibile, è verità per tutti che se togli Godot e aspetti qualcosa che non è presente, non rimane nulla nel tuo dialogo, è un farfugliare, è un chiacchierare, è il nulla, un'ora e tre quarti. Beckett scrive quell'opera, stendendola e declinandola sul nulla, perché c'è l'assenza che viene cantata. Vi ricordate che mi dissi in Ungaretti? È ballarmè, l'opera, nell'opera d'arte tu senti non ciò che vedi presente, ma ciò che sai essere assente. Quella è la poesia. Sei un mazzo di fiori, scrive Stefano Adarmi, tu sai che ne manca uno, non ti interessa di quelli che ci sono, ma senti la mancanza di quel fiore che non c'è, sapendolo. Quella è la poesia. dunque l'opera d'arte non è 99 fiori, ma il fiore assente su quei 99, quella è l'opera d'arte. Se non senti questo, vedi un vasso di fiori, non ha senso. E questa è anche l'educazione. Se non abitui, è chiaro che non c'è il salto. E questa è la scuola, e questa è l'università, e questa è la vita costante e quotidiana in cui dobbiamo alimentarci nella nostra esperienza. I motivi dei nostri incontri e condividere questo, no? Rimane un ultimo punto, guardate. Chiude il circo, ma si aprono le case, togli gli animali e ci metti gli uomini. Ecco perché chiude il circo. E chiude perché non c'è più l'incontro tra domande e offerte economiche e spese superiore in carico. Secondo, chiude il circo perché il grado di stupore non ha più il livello di prima. Il bambino si stupiva guardando le occhi. Se pensate a quello che dicono i psichiatri oggi in relazione a diversi videogiochi, play, quanto quello che volete, dove è talmente reale nell'irrealtà di immagini effettivi come parte attiva che non capisci più ciò che è vero e ciò che è falso perché è talmente realistico il falso che ti sembra falsa la realtà che poi vivi ed ecco che ti trovi un ragazzino abituato a sparare dentro quei videogiochi che poi se spara qualcuno non ne ha più la differenza sembra banale ma non lo è e in quest'ottica il grado di stupore dove è arrivato e soprattutto che direzione ha preso siamo incapaci ormai lo uso come immagine retorica assolutista mi perdonerete siamo ormai diventati incapaci di stupirci lo stupore è presuppo la semplicità ciò che è semplice stupisce per la sua semplicità ci siamo talmente abituati alla semplicità e al miracolo quotidiano che abbiamo costantemente mano a mano messo da parte questa grande virtù questa grande capacità virtù in senso letterale forza che l'uomo distruirsi e se è deviata approfondendola in aggravamento questa capacità non è più stupore è desiderio che è un'altra cosa il desiderio rivolto verso il passo spinge a scalare a scalare a scalare a scalare e lo scalare ci porta sempre più nel nascondimento l'uomo si nasconde e non ha più bisogno degli altri anzi gli altri sono dei vicini guardate quanto è vero che parte solidarietà umana guarda il cielo e stupisciti da un lato tutti i nemici io sono sono il migliore dall'altro che cosa ho? l'incapacità di stupirmi e lo scavare lo scavare lo scavare per assetarmi dissenarmi ma in realtà ti assedi per niente ti assedi sempre di più è un cammino terribile in cui il bambino e la bambina di oggi tendenzialmente con più facilità cascano se nessuno dei grandi il governo gli è dura è una gigantesca responsabilità ma se per primi non ci poniamo il problema e non lo denunziamo come possiamo risolverlo? stiamo sempre lì l'arte e la cultura ci aiutano a individuare vedete i problemi anche nella realtà pratica non è vero che sono proiezioni ortogonali tu cammini ah vabbè guardi il cielo in aria il poeta uguale l'inutilità della società non serve a nulla un poeta è come l'idea del vecchio invece che della persona saggia l'idea del vecchio applichi la vecchiaia di rifiuto delle cose sulle persone se è inutile capite come alla fine stiamo stravolgendo passo dopo passo con una corruzione nel senso letterale come l'acido corrompe piano piano fino a togliere le passi e a disgregarci come civiltà ecco che siamo tornati al punto di nottezza se questo non è chiaro per coloro che scrivono interpretano le leggi di figurare che la letteratura serva al diritto è fondamentale anzi vi dirò che talvolta qualche giurista allontana la letteratura sapete perché? perché ha paura di non poter più giudicare e questo vuol dire i grandi nel senso ovviamente del punto d'arrivo della loro riflessione Calamandrei nell'elogio dei giudici scrive a un certo momento scritto da un'avvocata Piero Calamandrei scrive a un certo momento se il giudice penetra tutti i misteri dell'anima umana in un certo momento non è più capace di giudicare perché gli vengono in mente mille e mille realtà legate alla persona che ha commesso quel fatto e questa profondità dell'anima questa fragilità lo porterebbe a perdonare a comprendere non potrebbe più giudicare o sarebbe offuscato e allora allontana questa visione delle cose e si ferma sul tecnicismo sull'aspetto professionale e sull'aspetto formale la procedura ed è una garanzia di coscienza fino a un certo punto poi fare giudici posso immaginare non è cosa e chi è cos'è che permette questa penetrazione nell'anima umana e nei suoi misteri l'arte e la letteratura ecco perché allora alcune volte alcuni giuristi allontanano l'arte e la letteratura quasi per timore di uscire dalla garanzia della procedura che li rende un po' asettici rispetto a umanità se si fermano a guardare l'umanità vale il principio di Cristo nel Vangelo nessuno giudichi capite che è un travaglio interiore non è un caso che più di un giudice in tantissima età abbia ripensato ad alcune sentenze sentivo anche talvolta amici sacerdoti che mi hanno detto e ho parlato con un giudice questo più di uno quindi io posso dire più che hanno ripensato chissà se ho fatto bene o male agito per coscienza per l'amore di Dio non un pentimento di un vergone voluto ai per l'amore di Dio no no è diverso il discorso è lecito è legale ed è morale quella delicatezza d'aria non è dire quel dubbio io l'ho risolto in coscienza così ma come una bolla d'aria mi riappare chissà se effettivamente le cose poi noi ci tranquillizziamo quando in coscienza abbiamo fatto tutto secondo una verità processuale però qui vuole solo Dio li sa vedete come poi il cammino umano sapre sapre anche a riflessioni forti in ogni modo chiudo abbiamo raggiunto la nostra ora con questa stanza dello stupore verso il cielo era la terza e l'ultima argomentazione che volevo riproporvi riproporvi dalla ginestra sentite qui come sapre questa stanza breve profonda vi commento sì e no qualche aggettivazione o qualche termine poi ve la leggo tutta tutta insieme questa parte della ginestra e così ci saliviamo a un certo punto dopo che Leogardi descrive la lidità la storia di Pompei il secolo superbo l'esigenza della solidarietà stacca spazio e inizia sovente in queste linee quel sovente è un appellio ovviamente che indica la la molteplicità delle volte sovente in queste linee sovente ma non vi ricordo un'altra forma di valore temporale così penetrante sempre caro mi fu con queste ermo conne c'è il paradigma dell'infinito sempre nell'infinito caro mi fu identifica un passaggio continuo con il ricordo il passaggio su quel conne sovente in queste live spesso in queste live non un conne ma le live cioè le pendici stando già sull'arica schiena di questo monte sterminatore che desolate a Bruno veste il flutto indurate e par che ondeggi la lava pietrificata ha creato quasi delle onde par che ondeggi a Bruno perché è scuro questo monte sovente in queste live seggo la notte ricordate l'infinito che da tanta parte dell'ultimo orizzonte guardo esclude ma sedendo e mirando il poeta si siede saper osservare saper leggere il seder si identifica il momento della quiete sovente sovente seggo la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiare le stelle veggo fiammeggiare le stelle dall'alto ovviamente qui di lontano fa specchio il mare e tutto di scintille in giro quasi diventa il cielo e la terra diventano tutt'uno questo spazio immenso nell'azzurro del cielo ovviamente l'azzurro tendente al blu potete immaginare il cielo illuminato da luna e da stelle non è notte buia il tramonto della luna porterà al buio da questo argentare delle cose non pur quest'orbe promettendo in terra popoli che un'onda di marco mosso un fiato d'aura maligna un sotterraneo crollo distrugge sì che avanza a gran pena di loro rimembranza e qui poco più avanti dirà se io guardo questo cielo questo cielo ha dei punti in realtà quei punti sono immensi e la terra appare punto a quei punti che sono immensi ed io che sono che sono un punto dentro la terra sentite e poi che gli occhi a quelle luci appunto bello questo verbo guardate qui c'è tutto pedracca usa la stessa immagine delle stelle che si riflettono sul mare in uno dei suoi sonetti del canzoniere gli occhi a quelle luci appunto aggancio non è l'appunto come termine per dire vedi cioè dico cose giuste giusta appunto no no appunto come verbo che identifica l'agganciare degli occhi a quelle luci posso appuntarle che cosa testimoniano l'irraggiungibilità la grandezza e il fatto che appaiono loro punti e aggancio a loro che a loro sembrano un punto e sono immense in guisa che un punto a petto a loro son terra e mare e della cemento l'uno sembra un punto rispetto all'altro almeno a cui l'uomo non pur ma questo globo dove l'uomo è nulla sconosciuto lo stesso globo in cui l'uomo è nulla è sconosciuto a quei punti e quando miro quegli ancora più senza alcun fini remoti nodi quasi di stelle avete presente la via Latte ecco sono nodi quasi di stelle che vengono l'una all'altra a congiungersi cannoni di paio un po' al nebbia a cui non l'uomo e non la terra sol ma tutti in uno del numero infinite e della mole con l'aureo sol insieme le nostre stelle o sono ignote o così pagano come essi alla terra un punto di luce nebulosa e l'uno all'altro si rimira come un punto al pensier mio che sembri allora o prole dell'uomo e rimembrando il tuo stato qua giù di cui fa segno il suo occhio premo l'arida schiena del formidabile monte e poi d'altra parte che te signore fine credi tu da da tutto e quante volte favoreggiarti bianco in questo scuro granel di sabbia che è la terra nel cosmo il qual di terra ha nome per tua ragione dell'universo e le cose scendere gli autori e conversare sovente coi tuoi piacevolmente e che le visi sogni rinovellando ai saggi insulta fin la presente età che in conoscenza e in civil costume sembra tutte avanzate qual modo allora mortal prole e infelice o qual pensiero verso te finalmente il cor massato non so se il riso o la pietà prevale è il comportamento dello sguardo leopardiano rispetto chi si crede tutto dimenticando di essere in questa soffermandoci alla dimensione un punto un gramello di sabbia non può che rivolgersi allora alla poesia a se stessa per comunicare agli altri questo grande valore ed ecco che la ginestra diventa l'immagine dell'opera d'arte e della poesia e Giacomo a lei pensa tutta la sua esperienza e tu così chiude lenta ginestra che di selve odorate queste campagne dispogliate ad ormi anche tu presto alla crudel possanza soccomberai nel sotterraneo fuoco che ritornando al luogo già noto stenderà la varonembo sui tuoi molli foreste e piegherai sotto il fascio mortal non remitente il tuo capo innocente ma non piegato insino all'orindarno codardamente supplicando innanzi al futuro oppressore ma non eretto con forzennato orgoglio in verre stelle ma sul deserto dove è la sede e i natali non per voler ma per fortuna avesti ma più saggia ma tanto meno inferma dell'uomo quanto le frali tue stirpe non credesti o del fato o da te fatte immortali la poesia è lenta delicata l'opera d'arte è odorata e sa che non può sfidare le stelle ma sa e qui c'è tutto pascal di mio pari che il cosmo stesso potrebbe ambientare l'uomo ma mentre il cosmo non sa vede di ambientarlo perché non può saperlo l'uomo sa di essere ambientato l'uomo è una canna la più fragile fra tutte le canne ma una canna che pensa la dignità dell'uomo sulla natura nella natura e per la natura è il pensiero la ginestra rappresenta il pensiero nel suo punto più alto di dignità l'arte lenta odorata e in questa realtà che si presenta talvolta come l'amida schiena di una natura anche involontariamente sterminatrice e forte l'uomo il suo pensiero il suo comportamento il suo agire può rappresentare quel colore unico che sa vivere anche sulle spalle di questo monte deserto cioè rendere colorata la realtà bruna del besone la ginestra questo può essere un modo di pensare la realtà quanto meno un suggerimento per pensare la realtà e creare un certo blocco alla consuetudine di tutti i giorni che ci fanno dar per scontate troppe cose che scontate in vero non sono primo fra tutti aprire gli occhi davanti alla luce del giorno come grande miracolo che per l'ennesimo giugno il Dio ci concede grazie della vostra attenzione e allora ci vediamo al prossimo mese per il prossimo incontro ciao